Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con colcavolissimo ritardo, oggi vi porto il topolino numero 3520 con annessa la statuina di Pluto Gold. Un attimo di pazienza perché dopo la sigla vi dirò cosa ne penso. Eccoci qui dunque con questo topolino numero 3520 con in copertina Archimede in modo molto stressato e paperino con il suo ghigno degno di boom boom ghigno per l'appunto. Copertina ispirata a una delle storie presenti all'interno, disegnata da Corrado Mastantuono, ovviamente si nota dallo stile e colorata da Andrea Cagol. Allegata con questo topolino come vi ho detto c'è la statuina Gold di Pluto che ho preso in edicola e iniziamo subito con questo albo ragazzi. Scusate se non ve l'ho portato in tempo ma è stata una settimana davvero davvero intensa quindi rimedierò quanto prima ovviamente. Abbiamo l'anticipazione del topolibro dedicato ai promessi sposi in uscita il 17 maggio con il prossimo numero del topo. Vediamo il cariatira paperopoli sempre dedicato ad Archimede che è appunto ruota tutto intorno al suo stress. Poi vediamo un'anticipazione della storia in 3D che uscirà sul topolino il 24 maggio con annessi occhialini 3D che si spera siano inclusi anche per gli abbonati. E poi abbiamo l'editoriare di Alex Bertani il direttore che ci appunto preannuncia le storie che leggeremo su questo numero con il ritorno di Corrado Mastantuono e di Newton con Pico ovviamente. E poi c'è anche la storia diciamo dedicata ai 100 anni della Walt Disney ovvero Once Upon a Time in the Future questa volta dedicata a Topolino, Pippo e Paperino Pompieri. Vediamo la cover alternativa appunto dedicata alla storia che vedremo più in là durante il video. Vediamo anche che il direttore ci preannuncia per l'appunto, sto dicendo appunto un sacco di volte anche questo video, ci annuncia che torneranno Silvia Ziche con Tito Faraci con le cronache del Regno dei Due Laghi e Zeo Paperone il troppo vero storico e Claudio Sciarrone con la storia in 3D. Vediamo la sketch cover e iniziamo subito con la prima storia dell'albo ovvero Le Isole della Cometa episodio 3 Flight 003 di Alex Bertani, Pietro Zemelo ai testi, Nico Picone ai disegni con i colori di Irene Fornari. Ragazzi siamo arrivati al terzo episodio di questa saga e devo dirvi che mi inizia a fare l'effetto delle storie lunghe, vediamo i disegni sono davvero bellissimi però sto iniziando a dimenticare il primo episodio della serie perché veramente quando le serie sono così lunghe a me fanno questo effetto purtroppo ma è un limite mio sicuramente. Poi vediamo Topolino che incontra questa ragazza di nome Minerva che quindi è diversa da quest'altra ragazza qui che vediamo all'inizio della storia. I fatti proseguono e vediamo giusto alla fine della storia che Topolino inizia a dimenticare, ovvero Mick, inizia a dimenticare il motivo per cui gli si trova sull'isolo, ovvero che lui è un naufrago e deve tornare a casa, si stava quasi ambientando però alla fine cercherà di ritornare a casa. Poi abbiamo Archimede e l'antistress Boom Boom di Corrado Mastancuono ai testi e disegni con i colori di Putra Shabin Bintam Shalil e Gaetano Gabriele d'Apile, quindi abbiamo due coloristi. Vediamo che Archimede è stressatissimo per via del troppo lavoro, quindi Boom Boom di Corrado Mastancuono li fa da praticamente segretario, anche da buttafuori, da esattore del credito che deve ricevere dai clienti e così via. Vediamo che all'inizio Archimede pare riposarsi però poi inizia ad annoiarsi e non vi dico come va a finire, immaginatevelo voi. Proseguiamo poi con un bell'articolo di Fabio Licari dedicato al fuorigioco per chi avesse problemi a comprendere la regola del fuorigioco e troviamo poi la storia di Newton e Pico in Viaggio nel Sapere, pane al pane, di Danilo Denidotti ai testi, Simona Capovilla ai disegni e Giulia Castoldi ai colori. Vediamo che Newton, come anche i ragazzi qui e qua, tutta la classe, debbono portare come compito a scuola un prodotto culinario che devono preparare in base al discorso dei prodotti elaborati. Vediamo la trasformazione agroalimentare, ovvero come un ingrediente possa trasformarsi, come per esempio il formaggio e l'olio d'oliva, sono delle derivazioni, in questo caso delle olive e del latte. E quindi Newton non sa come muoversi però incontrerà Pico che guarda caso stava andando da nonna papera e grazie all'usilio di nonna papera vedremo tutta la trasformazione del grano in farina fino appunto a diventare pane. Davvero molto bella, interessante come storia e anche divulgativa, molto carina. Poi abbiamo Zio Paperone e la palandrana del Sartomante, soggetto a sceneggiatura di Pier Giuseppe Giunta con i disegni di Francesco Guardini, con i colori di Martina Andonova. Vediamo Zio Paperone che va in un negozio per comprare una palandrana usata, dato che la sua si è rotta e le altre che aveva nel guardaroba sono state prestate a varie associazioni e musei per vedere la roba antica. Quindi decide di andare in questo negozietto esotico per acquistare questa palandrana che il negoziante gli dà in comodato d'uso provvisorio per vedere se Zio Paperone si troverà bene. Vediamo però che questa palandrana ha dei poteri particolari, ovvero prevedono il futuro. E quindi Zio Paperone inizia a usarla e forse anche ad abusarne per giovarne, ma purtroppo vedremo che poi Zio Paperone si adagerà un po' troppo grazie all'usilio di questa palandrana e quindi alla fine se ne disferà e non vi dico altro. Anche qui è presente Nonna Papra e anche questa storia è davvero molto ma molto bella. Scusate se non ho orientato bene il topolino. Abbiamo poi un articolo sul Salone del Libro, che ci sarà a Torino a breve, ci saranno anche degli autori Disney. Cosa c'è in edicola questa settimana? Zio Paperone, i grandi classici Disney, i paperenicchi, le grandi saghe. Anticipazione nel prossimo numero, 3521, questa bellissima cover dedicata a Alessandro Manzoni, però rovinata per quanto mi riguarda dalla scritta ovviamente. Ci saranno le storie di Zio Paperone e il troppo vero storico, episodio 1 e 2 di 2, di nuovo Newton e Pico in viaggio nel sapere, Cronaca del regno dei due laghi, l'isola della cometa, episodio 4 di 6 e l'ombra di Dactopia. Poi vediamo che le scritte, le pagine sono al contrario, perché inizia la storia dedicata al centenario della Disney. Squadra antigenio, dove vediamo il metico trio Topolino, Pippo e Paperino, con questi disegni di Donald Soffritti molto particolari, molto moderni. Abbiamo il soggetto di Francesco Artibani e Carlo Panaro, con la sceneggiatura appunto di Carlo Panaro, i disegni di Donald Soffritti. Appunto vediamo questo stile un po' particolare, moderno, che però rimanda un po' all'antico. Vediamo lo stile di Paperino, Topolino e Pippo, che si rifà molto al design dei personaggi storico, dove vedremo il mitico trio alle prese con la squadra antincendio e quindi si ritroveranno a fronteggiare tutti gli eventi a cui la squadra antincendio e i pompieri in America vanno appunto per soccorrere, insomma, mici vari e debellare incendi. Dato che abbiamo una Duckburg, quindi una Paperopoli, che è una Ecopoli, ovvero una metropoli ecologica basata su un sacco di vegetazione, su alberi, grattacieli, e quindi c'è molto legno e quindi c'è bisogno di una squadra antincendio che sia davvero molto abile. Davvero una storia divertente, ovviamente si basa sul corto animato di Paperino, Topolino e Pippo Pompieri e mi è piaciuta davvero molto. Queste storie dedicate ai cento anni della Disney sono davvero belle. Insomma, questo è un numero che a me è piaciuto molto e gli do un bel 8. Se devo fare una classifica, come al solito, delle storie, metterei, abbiamo 5 storie, qui manca la strip story finale perché c'è appunto quella dedicata al centenario, quindi metterei come quinto posto l'Isola della Cometa, Flight 003, perché sta iniziando appunto, per quanto mi riguarda essere un po' pesante. Al quarto posto metterei Newton e Pico, in viaggio nel sapere, pane al pane. Al terzo posto Archimede e l'antistress, boom boom. Al secondo posto Unsuporn Mouse in the Future, squadra di incendio. Al primo posto, ragazzi, metto Zeva Veroni e la palandrana del Sartomante che mi è piaciuta davvero tanto, tanto, tanto. Poi i disegni di Guerrini sono un must. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo topolino, spero che qualcuno venga a commentarmi se vedrà ancora questo video, visto che ormai siamo 3-4 giorni di ritardo rispetto al solito, però ci tenevo comunque a portarvi le mie considerazioni su questo numero, così come sto facendo da più di un anno ormai. quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero e sono sempre disponibile a rispondervi. Con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!